La sostenibilità in azienda è un nuovo livello di strategia. Tutti noi ci siamo posti delle tematiche normalmente di come essere di successo nel nostro mondo nel prossimo trimestre, nel prossimo anno, nel prossimo piano triennale. La sostenibilità è un qualche cosa che ha a che fare con le strategie di lungo periodo e detta le decisioni che prendiamo quotidianamente. Riteniamo che la sostenibilità debba essere integrata nel core business, che non sia semplicemente un modo diverso di porsi sul mercato. Ma deve essere un qualche cosa che influenza profondamente le decisioni strategiche e di conseguenza anche le decisioni operative che prendiamo. Se noi cominciamo ad avere una mentalità fatta che metta la sostenibilità al centro delle proprie decisioni, vuol dire che non solo ci occupiamo del rendimento di quanto facciamo, ma addirittura dell'impatto per la società e per l'ambiente di quello che facciamo. Questo cambia le priorità decisionali. Crediamo molto che le PMI italiane possano crescere sui mercati esteri e lo debbano fare per quello che sanno fare bene. Ma la Digital Innovation permetterà, abiliterà a queste aziende di aprirsi a nuove frontiere che non sono mai state toccate fino ad oggi. La Digital Innovation è l'abilitatore per queste aziende per raggiungere nuovi mercati e nuove modalità di operatività e di vendita. La Digital Innovation è l'abilitatore per raggiungere nuovi mercati e di vendita e di vendita e di vendita e di vendita e di vendita.